Le impressioni del dopo partito Le impressioni del dopo partito? Ecco, gli elencherò adesso le pagelle che abbiamo stilato io e il podro Amelia 5 Io non sto d'accordo Zambrotta 5, Guadera 5, Nesta 6, Antonino 4 e mezzo Pirlo 4, Seedorf 4, Gattuso 5 Gattuso 6 Ronaldinho 1,5, Ibrahimovic 2, Pato 2 Va bene Guadag 5,5 e poi è entrato Ronaldinho e Robinho 5,5 Zaghi senza voto Va bene Ronaldinho il mezzo voto è 1,5, solo per il riscaldamento e i tiri è abbastanza bene Era uno No, dico la mia Guarda che cazzo ha fatto No, le pagelle sono Amelia 6,5 No, no, no Ha fatto tu parato Cicola, non c'è colpa Antonini 5, Buonera 6, Nesta 6,5 Capite, Buonera e Nesta o quella male? Zambrotta 5,5, Gattuso 6 Pirlo Chi l'ha fatto l'autogol? Che l'ha fatto l'autogol? Non è autogol Devi azione Devi azione Chi l'ha fatto l'autogol? Dai dai Cazzo devi azione Ma chi l'ha fatto? Non lo so, state dando i voti e non sapete che ha valuto Zambrotta 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 Pirlo dice Pirlo Zambrotta Zambrotta No, Pirlo ha perso la palla Allora, 2 a 0 2 a 5 Pirlo 2 Pirlo ha perso la palla Perché hanno fatto la palla Ha perso la palla e hanno fatto 2 a 0 Non è il legno 0 Divoriamo di 5 a 0 Ha tirato la mano Ha tirato la mano Ha tirato la mano Ho tirato la mano Hai tirato la mano Ho tirato la mano Non lo ho visto Non c'è mai un cuoco Zambrotta Oh, ma che cazzo c'è? Watteng, Segelberg Musaghi senza voto e Robegno Sheik Allegri... Allegri non c'è la colpa, Allegri Sheik Real, Ozzello e Ronaldo 7, merda, Di Maria 1 Di Maria 1 Casella sono... Boh, non so manco si sorrisi Casella sono peroso, non so manco allenato Carvalho e Pepe 6 Marcello ha giocato bene Arbelo, Ambu, 5 e mezzo Sabio Alonso, grande giocatore, 7 e mezzo Chedira, 6 e mezzo Manca l'ultimo, aspetta 7 e mezzo, anche Ronaldo Manca un... Ah, Higuain, 1 e mezzo 5